un salve a tutti da philips89 siamo qua su chimera squad xcom chimera squad abbiamo due missioni quella di emergenza è questa qua che cosa ci dà questa qua 60 di crediti meno 2 di residenziale meno 2 giorni e questo cosa ci caccia meno 2 da rivoltare il portiere però qua non ho meno aumenta e facciamo questo un incontro previsto si è avvenuto la progenia ha fatto irruzione in una vecchia clinica di terapia genetica scoprite cosa sta cercando l'ultima unità che passa da questo ingresso infligge più 3 di danni durante l'induzione tutte le unità che entrano da qui ottengono facciamo questo claymore e terminal kerub e verge irruzione entriamo 2 99 dic il il ma non luci eh, rischiamo su di lui eh, la prima colpita 71% ok colpisce sì, questi bug la progenie è qui per il trasmettitore prendetelo e uscite dobbiamo salvare lui localizza l'alkeon ottiene il dispositivo di controllo c'è un codex in movimento il silenzio ti fa sprofondare fantastico, sono a secco ok vai qui spero la granata la granata Io li preparo, tu li abbatti Mi riposiziono Ti serve la scorta? Diamine, non ho munizioni Ho ricaricato Il nemico ci ha salutato Fai fuori il codex Come ho fatto a sbagliare? Il corpo mi sembrava deciso solo Non ho più munizioni Beh, fai una ricarica Arma pronta Abbiamo una granata al plasma Tanti bloccare Granata in arrivo Granata al plasma Pulisco il campo Bene Fallo fuori Non l'ha fatto fuori Dovrai fare di meglio L'arma è scarica Eh, ricarica, no? Ho sfamato la mia arma E non lo facciamo fuori E non lo facciamo fuori Ecco Hai chiuso Beh Vado di là Datti una mossa Bersaglio a terra Non vedo movimento Sì Sto bene Solo un po' Malconcio Ben Sfoga la tua frustrazione Bersaglio Bersaglio Ho pochissime munizioni Bersaglio il nostro corso gratuito www.mesmerism.info dove vado non mi colpisce la granata posso salire su no vai in qui i nemici sono in allerta 66% cazzo la granata mi colpiva pure lì va bene non perdere la concentrazione il nemico mi ha mancato arrivano i rinforzi pure munizioni ripristinate devo ricaricare granata lanciata munizioni ripristinate ma devo fare ricasca rieccomi potevi togliere un pochino di più peccato il bersaglio la sua voce preste e dolce ah lui se ne va da solo attacchiamo lui fare un bel fisico in guardia un altro nemico abbattuto continua così ho ricaricato il caricatore è quasi vuoto sono pronta a tutto dobbiamo coprire il keru non lo sapevo cambio posizione attenzione ai nemici è fuori lui non è andato quasi fallo fuori ha battuto uno stile le munizioni stanno per finire gli attreggiamo ricarica ho sfamato la mia arma ho quasi finito le munizioni le munizioni Beh, loro arrivano da lì Ok Vai qui Arma pronta Sono a corto di munizioni Una moltitudine di suoni Ho pochissime munizioni E cos'è? Si è bloccato Ok, estrelliamo In azione Ok, mi muovo Ce la farai Abbiamo finito una missione Ho ferito gli elementi Tutti i feriti gli elementi La progenie ha in mente di catturare e schierare gli Arkon come guerrieri prigionieri Sotto il suo controllo, gli Arkon provocherebbero danni indescrivibili alla città Tenete la progenie lontana da loro Cacciamo due da qua Abbiamo solo questa No, non abbiamo solo questa Questo aumenta No 75 informazioni Questa la possiamo fare? Sì Qualcosa ci dà? Fucile mitragliatore epico Fucile d'assalto epico Eh, non posso rinunciare Tu che cos'hai? Andiamo qui Cosa ci serve? Il fucile mitragliatore Questo che cos'è? Fucile mitragliatore Fucile d'assalto potenziato E facciamo queste Due torni Un informatore ci ha avvisato C'è un'arma speciale in questa posizione La prima unità che passa da questo ingresso colperà automaticamente Stiamo entrando Diamo un'occhiata a tutti i nemici Un'occhiata a tutti i nemici Il cordex vediamo con l'attacco come siamo messi 76% potrei colpire l'oro 2 esplosivo in arrivo a uccidere lui bersaglio abbattuto dovrai fare di meglio sei ancora in piedi attacca bombe cosa abbiamo granata lanciata devi morire errore ma l'ho fuori andiamo intorno a qualcuno vai ora no posso fare di meglio come hai fatto a mancare come hai fatto sempre bene tocca a te facciamone fuori due con un colpo sfoga la tua frustrazione applicatevi perché non ha effetto come attacca l'uja adesso non è stato piacevole devo andarmene devo andarmene non è stato ci facciamo fuori chi facciamo fuori no la granata no lei peccato il bersaglio attraverso l'ho eliminato un nemico eliminato un nemico qua un'altra 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 grazie ti takich un'altra 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 e vi unico se salutato ci sono meno nemici aggressivi i colpi messi a segno sui nemici saranno colpi critici la prima unità che passa da questo ingresso è marcata fino alla fine dell'incontro Claymore ti sacrificherai per la squadra ok che cosa ha fatto entriamo Oh no! E' di là che... Allora attacca lui... No, ho sbagliato. Va bene. Attacchiamo quello con l'arma. Fallo fuori. No, dovevi farlo fuori. Il nemico mi ha mancato. Non puoi tenermi a terra! Puriamo. Ancora in piedi. Sì, serviranno dei punti. Bene, attacca Verge. Un po' lì a lui. Non lassù. Attacchiamo lui. Nemico placato. Continua così. Mi hanno colpito. Ce la faccio. Mori. Bersaglio a terra. Non vedo movimento. Osserva. Niente paura. Wow. Sono ancora in piedi. Ah, sì? Tu vuoi la guerra? Allora ti bombardo io. Granata al plasma. Ha battuto uno stile. Cura tutti. Allora, ansi. Cura. Lui. No, io ho dato il turno. Vabbè. Vediamo se si sposta. Rissaglio colpito. L'armatura ha deviato il colpo. Perito lo è di sicuro. Bene, ti sei messo proprio... Eccolo, hai chiuso. Confermo. Bocciolo fortunato. Arma. Ok. Abbiamo una missione critica qua. E la missione principale è qua. Promozione per Claymore. Potenzia bomba a frammentazione per infliggere danni attraverso le coperture. Potenzia bomba a frammentazione che ora all'impatto applica a distruzione nei persagli e nel reggio di espressione. Bene, Claymore. Bene, Claymore. Sì, qua abbiamo una missione critica. Abbiamo una missione di attraverso le coperture. E vediamo l'arma. E' una missione di attraverso le coperture. E' uno. 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 qualcuno e può sparare al prossimo. Bene ragazzoli, per oggi è tutto, un saluto da Philips89, se l'episodio vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, a commentare per ricevere consigli o avere consigli su queste altre ricerche che sto portando sul canale, a commentare e a condividere per aiutarmi a far crescere questo canale. E se non l'avete già fatto, iscrivetevi. Un saluto, alla prossima, ciao!